Allora, Maurizio Solieri e la Puglia, un amante di questa terra, a Taranto, in questa meravigliosa città con tante difficoltà, però insomma un pensiero per noi pugliesi. Beh, devo dire, io amo molto la Puglia, ci sono sempre venuto, purtroppo quasi mai in vacanza, conosco i posti, sono stati in posti bellissimi, però sempre di passaggio. Diciamo che sia con Vasco, che con la Steve, che con altre formazioni, insomma, quelle 5, 6, 7 volte all'anno vengo sempre, insomma, e mi piace perché mi piace il pubblico, perché devo dire c'è un pubblico prima di tutto anche molto molto carino, molto affettuoso e molto rispettoso, per l'altro la settimana scorsa ero a Foggia e poi il 18 e il 19 di giugno con Ricchi Porter andremo all'apertura di uno studio di registrazione vicino a Gallipoli, il paese non me lo ricordo, comunque lì vicino, insomma, zona meravigliosa, insomma, poi io sono un amante del pesce, ciao! E poi io ho un mio grande fratello amico, Fernando Proce, con cui facciamo un disco nel 98, Proce Soglieri, che ancora adesso è un disco della Madonna, insomma. E infatti stamattina mi ha chiamato Fernando, solo che ero su in camera, avevo spento il telefono, ho trovato la chiamata, perché loro da RTL mi chiamano quasi tutte le settimane, senza mai dirmi quando mi chiameranno, quindi non so, mi chiamano intorno alle 10 e mezza, quindi sono all'uscita della tangenziale, col camion che arriva qua, eccetera, eccetera, in palestra, a fare la spesa, eccetera, eccetera, però è un grande amico che finalmente rivedrò in quei giorni. E poi in estate ho comunque altre 3 o 4 cose, sempre zona Brindisi, Lecce, eccetera, eccetera, per cui ben volentieri. Speriamo che torni anche qua, a Taranto. Ma certo, io in Puglia non c'è problema, assolutamente. Ti aspettiamo di nuovo a Taranto. Ok, ciao a tutti.